C'era una volta il ponte degli innamorati. I lucchetti di Ponte Milvio hanno suggellato centinaia di amori, ma l'incantesimo rischia di essere spezzato. In precedenza i lucchetti erano attaccati ai lampioni del ponte, successivamente l'allora sindaco Veltroni con un'ordinanza ha deciso di spostarli nelle famose balaustre di ferro che hanno creato la polemica all'interno del ventesimo municipio di Roma per cui i consiglieri di Italia dei Valori e del Partito Democratico ne hanno chiesto la rimozione per motivi di ordine pubblico. E i romani che ne pensano? A nessuno in fondo danno fastidio questi lucchetti, anzi. Devo dire che questi lucchetti comunque fanno parte dei Ponte Milvio perché comunque hanno una storia. Sono nati grazie a un'idea di moccia che mi sinceramente non piaceva, però devo dire che comunque sono un'attrazione anche per i turisti che vengono qua e vengono a mettere lucchetti anche per le coppie. Poi è una cosa romantica. Ponte Milvio, oltre ad essere attrazione per le coppiette di tutto il mondo, è anche uno dei punti chiave della movida romana e non teme la mozione del ventesimo municipio. questi giovani che vengono da altre regioni, che li vedo durante la domenica, che magari passeggiano e vanno a mettere i lucchetti sul ponte, cioè si vede, insomma, gente che viene da fuori proprio per questo. Però non sono solo quelli, insomma. Qui la movida oramai c'è, non è legata comunque al lucchetto. Questi giovani si hanno voluto fare questa cosa per ricordare il loro amore, che poi è importante, perché toglierglielo.